La signora French andò con loro, parlando per tutto il tempo. Era una donna sulla settantina, con l'accento del Maryland e il cornetto acustico, pronta a scendere dalla macchina e a innerpicarsi dappertutto, sebbene fosse poi necessario aiutarla a ogni passo. Therese stava costantemente in ansia per lei, pur essendo restia perfino a toccarla. Provava la sensazione che, se la signora French fosse caduta, sarebbe andata in mille pezzi. Carol e la signora French parlavano dello stato di Washington, che la French conosceva molto bene. E ovviamente la signora French adorava Carol, e di certo l'avrebbero avuta con loro piuttosto spesso. Erano quasi le undici di sera quando fecero ritorno in albergo. Carol invitò la signora French a cenare con loro al bar, ma la signora disse d'essere troppo stanca per mandar giù qualcosa di diverso dai soliti fiocchi di grano con latte caldo che si sarebbe fatta servire in camera. Meno male, disse Therese dopo che la French se n'era andata. Preferivo rimanere sola con te. Davvero, signorina Belivet? E come mai? domandò Carol mentre apriva la porta del bar. Farà bene a sedersi e a spiegarmene la ragione. Ma al bar non rimasero sole per più di cinque minuti. Due uomini, un certo Dave e un altro, il cui nome Teresa non sapeva né ci teneva a saperlo, si avvicinarono e chiesero di potersi unire a loro. Erano gli stessi due che la sera prima, nella sala da gioco dell'albergo, si erano avvicinati per domandare a Carol e a lei se volevano giocare a ramino. Carol, la sera prima, aveva declinato l'invito. Ora disse, ma certo, si accomodino. Carol e Dave cominciarono una conversazione che suonava molto interessante, ma Therese era seduta in modo che non le era possibile partecipare davvero. E l'altro, accanto a Therese, voleva parlare di tutt'altro argomento. Finito di cenare, Therese aspettò che Carol accennasse a voler andarsene, ma Carol era ancora immersa nella conversazione. Therese aveva letto del particolare piacere che si può ricavare dal fatto che la persona amata risulti attraente anche agli occhi di qualcun altro. Lei proprio non lo condivideva. Carol la guardava di tanto in tanto e strizzava l'occhio. Così Therese rimase seduta là per un'ora e mezzo e si sforzò a dimostrarsi cortese perché Carol voleva che lei lo fosse. Tesoro, hai mai pensato che un giorno anche tu avrai 71 anni? No, rispose Therese. Ma c'erano altri giorni in cui si aggiravano sole tra quei monti, prendendo la prima strada che volevano. Una volta arrivarono in una località che a loro piacque e vi passarono la notte, senza pigiama e senza spazzolino da denti, senza passato e senza futuro. E la notte divenne un'altra delle isole nel tempo, sospesa in qualche punto del cuore o della memoria intatta e assoluta. O forse, pensava Therese, non era altro che felicità. Una felicità completa che doveva essere piuttosto rara, così rara che ben poche persone riuscivano a conoscerla. Ma se era semplice felicità, allora era andata al di là dei normali confini ed era diventata qualcos'altro. Era diventata una specie di pressione eccessiva, al punto che il peso di una tazzina di caffè tenuta in mano, la rapidità di un gatto nell'attraversare il giardino sottostante, il cozzo silenzioso di due nuvole, sembravano quasi più di quanto lei potesse sopportare. E proprio come un mese prima non aveva compreso il fenomeno della felicità improvvisa, ora non capiva lo stato in cui era, che sembrava un malessere postumo. Era più spesso penoso che piacevole, di conseguenza lei temeva ad avere qualche pecca grave e unica. A volte era spaventata come se stesse camminando con la spina dorsale rotta. Semmai le veniva l'impulso di dirlo a Carol, le parole si dissolvevano prima che potesse pronunciarle, per paura e per la solita sfiducia nelle proprie reazioni, per l'ansia che fossero reazioni diverse da quelle di chiunque altro e che di conseguenza nemmeno Carol avrebbe potuto comprenderle. Guidavano senza meta per le strade zigzaganti, che erano come linee bianche tracciate col gesso per collegare un punto di una montagna a un punto di un'altra montagna. Thérèse cercava sempre con gli occhi l'uomo dalle profonde pieghe ai lati della bocca, mentre Carol no, mai. Carol non l'aveva più neppure nominato dal loro secondo giorno a Colorado Springs e ormai ne erano passati dieci. Dato che il ristorante dell'albergo era famoso, nuove persone venivano ogni sera nella vasta sala da pranzo e Thérèse si guardava puntualmente attorno. Molte persone, in compenso, guardavano Carol, perché generalmente era lei la donna più attraente della sala. E Thérèse era talmente lusingata di stare con lei, così orgogliosa di lei, da non occuparsi da altri che di Carol. Poi, mentre leggeva il menù, Carol schiacciava lentamente il piede a Thérèse sotto il tavolo per farla sorridere. «Che cosa ne pensi dell'Islanda in piena estate?» domandava per esempio Carol. «Perché si facevano un dovere di parlare di viaggi se c'era silenzio nell'istante in cui si sedevano a tavola». «Devi sempre scegliere posti così gelidi?» «Quando lavorerò mai?» «Non fare la guastafeste. Dobbiamo invitarla, la signora French? Pensi che si scandalizzerà se ci teniamo per mano?» Una mattina arrivarono tre lettere da Rindy, da Ebby e da Danny. Era la seconda lettera che Carol riceveva da Ebby, la quale in precedenza non aveva avuto altre notizie da dare e Thérèse notò che Carol apriva per prima quella di Rindy. «Ascolta questo», disse Carol. «Hai visto degli armadilli nel Colorado? Puoi mandarmene uno, perché il camaleonte si è perso. Papà e io l'abbiamo cercato dappertutto in casa, ma se mi mandi l'armadillo sarà abbastanza grande perché non si perda. Poi, a capo. Ho preso l'odevole indettato, ma solo sufficiente in aritmetica. La odio. Odio l'insegnante. Bene, adesso devo chiudere. Baci a te e a Debbie. Rindi. PS. Grazie tante per la camicia di pelle. Papà mi ha comperato una bicicletta con ruote di misura normale, mentre a Natale diceva che ero troppo piccola. Non sono troppo piccola. È una bella bici. Punto. A che serve? Arge riesce sempre a superarmi. Carol posò la lettera e prese quella di Ebby. «Perché rindi?» dice «Baci a te e a Debbie», domandò Thérèse. «Crede che tu sia con Ebby?» No. Il tagliacarte di legno di Carol si arrestò a metà della busta di Ebby. Probabilmente pensa che io le scriva. Voglio dire, Arge non le avrà detto così, vero? «No, cara», rispose in tono preoccupato Carol, scorrendo la lettera di Ebby. Due volte sentì ridere Carol, che però non le lesse alcuna parte della lettera a voce alta. «Notizie?» domandò Thérèse. «No, nessuna. »Ceral le insegnava a guidare ora lungo le strade e ai piedi delle montagne. Thérèse imparava più presto di quanto avesse mai imparato altro in precedenza, e dopo un paio di giorni Carol la lasciò guidare anche a Colorado Springs. A Denver, Thérèse fece un esame e ottenne la patente. Carol disse che, se lo desiderava, poteva guidare lei per metà del viaggio di ritorno a New York.